Sarò veramente conciso, perchè dovrà essere l'attenzione rischiare nel passato, per esempio per l'incendazione, per i rinanziamenti per l'ospedalità. Noi, diciamo, io ho chiesto anche del Presidente di questa associazione che mi è costituita, nel panoramco cittadese, diciamo, l'associazionismo andavano in piano interdendosi, proprio nella realtà, e noi cerchiamo questo gruppo motivato da questa passione che è nata da anche qualche organizzazione di questa gara, ecco perché, e quindi, che dire, il percorso, i due percorsi saranno amici per gli stessi, cercheremo di guardare più gli aspetti di qualità, un po' le attività con la pedaglia, le gare, ci hanno visto, diciamo, ospitare atleti di top runner di primo ordine, sollecitare a Tore Gaspari, che ha introdotto le elezioni, anche tra i miei colleghi, quindi con l'anno scorso che tutti gli appassionati e gli altri entrati in muscolo, ma vi aspettiamo poi perché cercheremo di riservare un po' di novità, e vorrei concludere, cercare di essere qui, lasciando anche per la chiusura del circuito a Tore Gaspari, che non si è mai mai. Spende in particolare un video. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.